Gianni, per te salire su un palco non è più una novità, anche se siamo certi che l'emozione sia sempre molto forte. In qualità di direttore artistico dei team Italian Style, Italian Style Energy, quali sono i consigli che dai agli stilisti prima che inizi lo show? Il segreto è la preparazione. Prepararsi, ricordatevi che un minuto in pubblico corrisponde ad un'ora di preparazione e più sono preparati e più le mani sono tranquille, viaggiano bene e ottengono dei grandi lavori. E' quello che abbiamo ottenuto oggi, veramente un grandissimo risultato. Sono fiero ed orgoglioso dei miei ragazzi oggi perché hanno espresso al meglio ciò che abbiamo creato come collezioni. Sono veramente contento. Quest'anno il focus dell'International Congress è stato il colore, che sia classico, vivido oppure pastello. Quali sono gli accorgimenti da seguire per avere un colore sempre perfetto? Innanzitutto sono convinto che bisogna scegliere molto bene chi esegue il colore. Un serio professionista che utilizza dei prodotti di altissima qualità, in particolar modo fra mesi, otterrà di sicuro dei grandi risultati. Il fai da te abbandoniamolo perché si vede troppo lampante che il colore non è vivido, non è vivo, non è reale. Per quanto riguarda il mantenimento, degli ottimi prodotti dati a casa per la cura del colore fanno sì che il colore mantenga nel tempo la sua brillantezza. E' questo che vi posso consigliare. Ottenete dei grandi risultati lavorando con dei prodotti di altissima qualità e rivolgendovi a dei professionisti seri e capaci.